Il professor Toffoli te lo ricorderai? No, era titolare di Chimica Fappaciotica ed era anche direttore generale dell'Istituto Superiore Sanitario, quindi non era l'ultimo venuto. Assieme a un'altra persona che si chiamava Roberto Zito, ex direttore sanitario della regina Elena, hanno messo a punto, dopo una studio di circa 200 giorni, diciamo una venticinquina di anni, sì, lui mi diceva, io poi all'epoca avevo una trasmissione televisiva a Teletevere e lo chiamai per presentare questa cosa e lui mi diceva, dice, abbiamo messo tutta la nostra esistenza, l'abbiamo messo per tirare fuori questo. E in questo libro lui fa vedere come, adesso potete vedere da lontano, ci sono tutta una serie di formule che costituiscono catene laterali per cui se in qualsiasi prodotto farmaceutico esiste, esistono queste catene laterali, questi che trasformano il farmaco genotossico, sono tutti prodotti genotossici. La logica, la logica che cosa vorrebbe? Vorrebbe che un libro di questo genere fosse sistematicamente sul tavolino di ogni medico. Ma come vuoi dire? No, l'ha fatto sparire. Lui, io ho detto, guarda, tu tra l'altro eravamo colleghi a loro, ti dò oltre tutto, gli eravamo amici, gli ho detto, fammi un piacere, rimedimene uno, e lui lo rubò alla biblioteca dell'Università di Bologna, dice, non ho nemmeno il mio. Allora, lui ha inventato tutta una serie di garanzie che avrebbero, l'editore, gli avrebbe curato la vendita, i libri sono spagliati. Tutti venduti. E la stessa cosa del testo del giornalista che era portavoce del gruppo dei Dibeliani, il quale ha scritto un libro di cento di migliaia di pagine, un libro erto così, che lui ha dato a me, e anche questo libro non ha potuto girare. Non solo, siccome i distributori hanno rifiutato tutti i distributori di distribuirlo, metto per dire quali sono le complicità in Italia, non è il singolo delinquente, non è il singolo mafioso. Però vi farò vedere un'altra cosa, è ancora più grave. E' il meccanismo che è infernale. E' infernale. Allora, questo libro, sono andati in certe librerie, grosse librerie d'Italia, tipo Feltrinelli, Mondatori, eccetera, chiedendo, ve li diamo in deposito, me lo mettete in vetrina? No, dice, non li pigliamo. Non gliel'hanno presi. Questi libri sono andati, anch'essi al Marcello. La prossima biblioteca che faremo, vi farò vedere quel libro, perché io ce l'ho. Ci sono tutte le storie, una dietro l'altra, tutte le storie della terapia di Pella. Ho detto circa un migliaio di pagina. E veniamo ad un altro. Allora, questo l'ho detto. So che molti amici, se lo sono fotocopiato, se volendo può essere trovato su Accademia della Libertà, è stato sistematicamente trascritto tutto su Accademia della Libertà, sul sito, sul blog Accademia della Libertà. Quindi questo volendo si trova. Ma questo, logica vorrebbe? No. Ma ce n'è un'altra, ancora più bella, ed è questo libro, Critical Evidence. E qui dobbiamo fare una piccola storia. Fino a una quindicina di anni fa, questa è l'edizione del 2001, nemmeno, fino a una quindicina di anni fa, non esisteva nemmeno la verifica dell'efficacia di un certo prodotto. Non solo. Ma anche la cultura della verifica. Oh, quanto è bravo, mi ha curato, eccetera, eccetera. Ma la sistematicità della verifica è venuta dopo, quando è nata la cultura della clinical evidence, cioè della medicina basata sulle prove di efficacia. L'ideatore di questa cosa è un medico... Questa affermazione è di una gravità assoluta, eh? Questa affermazione della prova della veridicità, dell'efficacia, è di una gravità assoluta. Cioè che è la messa al bando, fuori legge dell'industria chimica farmaceutica per oltre un secolo. Non so, ma fino a quindici anni fa era impossibile concepire la verifica. Cioè, dice, pia di questo perché questo fa, non che fa, dimmi dove l'ha fatto, portami da voi, portami le pubblicazioni. C'erano le pubblicazioni, ci sono anche adesso, qui c'è scritto, se capita faccio anche vedere questo numero qui. Poi ti faccio una nota su questo. Questa è la scienza, fidarsi di Big Pharma, dove spiega come tutte le pubblicazioni della ricerca sono tutte falsificate. Esatto. Tutte. Esatto. Sono tutte falsificate. Certo. Perché? Perché siccome... Ho fatto il fatto... Finanze è con la gente di ricerca, no? Sì, sì. I risultati sono falsificati, io ricordo... Scusami, che voglio io. Allora, qui comunque ci ha spiegato tutto perfettamente. Che numero è quello lì? Questo è il numero delle scienze del febbraio 2013. Ok, grazie. Dove un medico fa la sua storia, dice io un bel momento ho cominciato a prendere i concetti, siccome non mi risultavano certe cose che mi dicevano, io andavo a vedere i risultati dei miei pazienti, ho incominciato ad andare a cercare. E' andato a cercare e si è reso conto che i lavori... Allora, voi dovete sapere che la ricerca, tutte le ricerche vengono pubblicate sulle riviste scientifiche. Siccome le riviste scientifiche, noi l'abbiamo anche detto, ti ricordi, in un'intervista che abbiamo fatto, è anche irreperibile, anche tu. Abbiamo fatto due interviste basandoci proprio su questo discorso qui. La ricerca è fatta con moltissimi lavori su un circolo, un certo farmaco, e se ne fanno tanti di pubblicazioni. Di queste pubblicazioni, il 40-50% danno esiti assolutamente negativi, totale inutilità del farmaco. Altro 20% danno, per i risultati in cui risulta che il farmaco ha parecchi effetti secondari, e ce ne sono tre o quattro, che invece danno... Va bene, perché la statistica, chi conosce la statistica scientifica sa perfettamente questo discorso. E sono gli unici quelli che vengono pubblicati sulle riviste scientifiche. Esatto. Questo per quei medici che leggono le riviste scientifiche. Siccome in Italia medici che leggono le riviste scientifiche sono pochissimi, e quei pochi che le leggono le leggono per ufficio, cioè per conto di loro signori, e allora è come se... anche se ci fosse... sono delle falsificazioni. In ogni caso, per venire contro a questa situazione, è nata la medicina basata sulle prove di efficacia. Che cos'è? Intanto quello che l'ha ideata, quello che l'ha ideata è un medico australiano, che si chiamava Cochrane, di cui io ho tutte le opere, è vero che esistono le associazioni Cochrane, che si sono costruite fortunatamente in tutto il mondo, e che fanno le revisioni su tutte, attenzione, su tutte le pubblicazioni. Allora, pigliamo ad esempio, tu mi hai parlato prima dell'aspirina, pigliamo l'aspirina e vediamo tutti i lavori che sono stati pubblicati, e tutti i lavori che sono stati ufficializzati, perché sono moltissimi lavori che siccome stanno andando così male, gli indusis, tanto pago io, ai ricercatori gli dicono guarda chi impi, tanto io ti pago lo stesso, anche tenendo presente che quelli che dirigono la ricerca, dei vari centri di ricerca, centri universitari, sono tutti azionisti delle singole aziende. E hanno diritto di veto. Sono azionisti delle aziende. La cosa è incominciata da Rockefeller. Esattamente, bravissimo. Il condizionamento dell'università ha incominciato con loro, Rothschild e Rockefeller. Si sono impossessati dell'università. Perché gli facevano un regalo, gli davano un milione di dollari. Solo se facevano un regalo. Lo stesso vale per la MMT, il Columbia University, il Levy Institute, la VEconomics e la compagnia bella. Sono schiavi dell'industria economica? Assolutamente. Ti dico in finanziamento, io ricordo che io avevo avuto sempre molti rapporti molto stretti con tanta gente e con tanti giornalisti scientifici italiani. Uno di questi, che ero uno dei più bravi, che, oh, poveraccio, doveva anche campare, mi disse un giorno, faceva una parte della stessa commissione presso l'Istituto Superiore Sanitario, era una commissione che analizzava, vedeva qual era il programma aziendale dietro a un prodotto. perché quando tu strutturi il lancio di un prodotto, non è che ti limiti soltanto a contattare i medici, devi creare tutta una certa situazione, anche con i media. Ad esempio, la Viaria, quando su tutti i giornali uscì la notizia di una che era morta e poi risultò che era morta un anno prima, no? Una grande operazione mediatica, da manuale. E poi che hanno fatto? Hanno venduto quei milioni di persi... 24 milioni di tanti. Che nessuno ha mai utilizzato. Fortunatamente. Ah, a proposito, la ricerca sulla terapia di Bella, quella fasulla, che poi è stato dimostrato che era fatta con dei farmaci scaduti, o comunque che ai fini dell'attività terapeutica andavano considerati scaduti, è costata al popolo italiano 70 miliardi. Agli anni. Per vecchie lire. Ma anche la Viaria è costata il vaccino per ogni italiano? C'è stato questo vaccino? Non l'ha doperato nessuno. Certo. Non solo, e poi... E l'hanno lasciato fuori dal frigo. Ah sì, hanno raccontato... tre o quattro occhi che volando sono caduto. Ecco. Da dove l'ho caduta, dove veniva... Ecco, eccetera, eccetera. Ecco. Io sono un medico, no? Sì. Ci hanno fatto fare il vaccino H1, N1, però io non ero convinto. Brava. Quindi ho fatto un'anamnesi molto accurata, proprio accurata. Sono stati buttati via, non so quanti vaccini... Sì. No, da regione là si sono buttati tutti. Tutti. E per fortuna ha avuto ragione. Eppure vengono avuti in Africa. No, in Africa sì, ogni tanto. Quando vogliono scatenare una certa epidemia. Esiste in America un istituto statale che provvede a verificare la validità delle pratiche industriali, di qualunque genere, meccaniche, chimiche. Per quanto riguarda i prodotti della sanità, l'80-90% a sua dichiarazione non hanno subito validazione. Sì. Non sono stati mai validati. Naturalmente. Si fanno. Chi si è morto. Chi si è morto. E questa parte è la sperimentazione sull'animale, perché allora poi si vuole la conferma della sperimentazione dell'animale. Io avrei voluto portare un libro che però ho portato altre volte, che era un testo molto importante, sicuramente tu lo conosci, sulla non validità della sperimentazione degli animali, danni provocati da farmaci, titolato, danni provocati da fare sulle sperimentazioni dell'animale, anche quello. Però diciamolo a questo qui perché è bella, visto che c'è un medico, sicuramente lei questo non sa nemmeno di cos'è. Non lo so, non lo vedo da qualsiasi, ho senso chiaro. Questo è clinical evidence. No, quello non lo conosco. E' appunto medicina basata sulle prove efficace. Allora diciamo come stanno le cose, perché è ancora più divertente. Allora sulla base dei lavori di questo Cochrane, inizialmente di questo Cochrane, che era stato, lui quando fa la sua autobiografia racconta questo aspetto molto importante, lui era un medico militare e fu fatto prigioniero e si prevedeva, appoggiate un secondo che chiudo qui c'era, e lui prevedeva di avere una marea di morti, di immagini, di campi di concentramento, sai quanti morti. Invece lui in tutto il tempo che è stato un medico militare in un campo di concentramento in Grecia, ha avuto su due o trecentomila prigionieri, lui doveva controllare da solo, ha avuto un solo morto. Mangiavano quasi niente. Quindi stavano felici. Poi stavano in Grecia, clima bellissimo, facevano i bagni, stavano. No, no, rispetta. Io ho avuto un solo morto. Allora, nell'ambito di questo, nell'ambito di una cultura militare, noi sappiamo che gli angloamericani sono andati a misurare l'efficacia delle bombe nell'immediato dopoguerra, tutti lì a misurare l'efficacia delle bombe in tutti i posti dove hanno bombardato, col metro, la qualcosa, eccetera, eccetera. Tant'è vero che io, la chimica di guerra, io feci chimica di guerra, tu l'hai fatta più volta. No, no. La chimica di guerra la feci andando a leggere tutti i dati statistici relativi allo sgancio delle due bombe atomiche che sono di un interesse estremo. Eh, perché? E anche lì, quello è tutto un discorso che dovrebbe essere capito. Allora, questa grande pericolosità della bomba atomica non è assolutamente vera. Perché i dati statistici ci dicono che la bomba atomica ha provocato ben poche delle morti che voi dicono, hai capito? Perché? Perché a loro erano interessati, nel momento in cui gli americani erano gli unici che possedevano la bomba atomica, erano interessati e questo lo fece Einstein, il buon Einstein, il quale per avere ottemperato a questa bisogna, è vero, si era fatto valutare come buono, laddove era il primo, la prima causa dello sganciamento delle bombe atomiche perché fu lui con una lettera negli anni 30 che convinse Roosevelt a fare la guerra atomica, no? Risultava essere un buon uomo perché spaventava l'umanità sul rischio della bomba atomica e la data lo facevano semplicemente per tenere l'umanità sottomessa al potere americano. Nel 44 non si è se un'altra al contrario, per far vedere che invece erano persone per bene. Quindi gli studi fatti sul Giappone non hanno dato tutti i morti che poi ci sono stati, che erano dovuti a altre cose, non alla bomba atomica in quanto tale. E che altre cose? Eh? E va bene. Non lo capito. E che altre cose? Alla bolla di calore, 5.000 gradi di calore. No, non era quello lì, il fatto che loro li hanno bombardati intenzionalmente mentre loro si facevano il caffè mattutino o quella soffè in cacchetto, loro si facevano. Questo scoppio ha dato fuoco a tutte le casette, non tutte casette di legno. Di legno, legno e caro. Questi centinaia di milioni sono state connotate dall'incendio, non della bomba atomica in quanto tale, dell'effetto sia della radiazione e anche dello scopo. Certo, certo. E noi viviamo tutt'oggi ancora con il mito della pericolosità dell'energia atomica, semplicemente perché i loro signori sono interessati a che gli italiani non abbiano autonomia energetica. Scusi, ma come fa a dire che la bomba atomica non è pericolosa? Ci siamo. C'è un amico di un po' che non è pericoloso, chi ha detto che non è pericolosa? No, voglio dire che la sta sminuendo la bomba atomica, è un'arma letale. No, io sto parlando di dati statistici, è assolutamente dati statistici. Non so, sto parlando di confiamento del rischio atomico, ma non sto parlando della realtà. Sì, però voglio dire, il nucleare, oltre le due bombe che hanno sganciato e riuscivano a casarli, hanno fatto degli esperimenti devastanti sotto gli oceani. Oggi c'è il problema sul riscaldamento della Terra. È provocato dal bomba atomica il riscaldamento della Terra. Perché le energie sganciate, le energie atomiche si stanno radunando e stanno aggrando sullo scaldamento della Terra. Allora, adesso che cosa ne dico, invece lo svuotamento che creiamo tirando fuori petrolio, non genera niente. Quindi vengo io, eh. Ma parliamo della bomba di Hiroshima e Nagasaki, che erano equivalenti a 250, totellate di Tintolo, e che quindi erano tutt'altra cosa rispetto all'attuale, a mille megatoni, che sono tutta un'altra questione. È una dimensione epocale diversa tra Nagasaki e Hiroshima e quelli attuali. Stiamo parlando della bomba di Hiroshima e Nagasaki, non dell'attuale. Io sto parlando di fatti concreti contro l'ideologia. E sto dicendo che l'ideologia è creata altatamente da chi ha interesse a che in Italia non ci sia autonomia energetica. Punto e basta. Avete visto, chi di voi ha visto il filmato, sta uscendo anche quello, su Olivetti, dove si dice chiaramente che si è ammazzato anche lui? Certo, certo. E allora, più ne così, che cosa dobbiamo dire? Li hanno ammazzati tutti? Certo, certo. Allora, veniamo a questo discorso perché è importantissimo. Qui c'è un medico e qui a maggior ragione me lo deve confermare. Sulla base di questi dati tirati fuori dalla ricerca a Cochrane, allora ripeto che cos'è la ricerca a Cochrane. Questi della Cochrane sono andati a fare, hanno fatto le revisioni di tutte le pubblicazioni relative a tutti gli interventi medici. Non soltanto farmaceutici, ma anche chirurgici e tutto il resto. Tutto. Di tutto è stato studiato e sono andate a vedere tutte le pubblicazioni, ovviamente reteribili. Che cosa è il risultato? Il risultato è che mentre l'industria, e qui c'è la conferma, mentre l'industria pubblicava, visto che era quella che pagava, perché il gioco è semplice, i coglioni ci cascono subito, è stata pubblicata quella pubblicazione, ma siccome le riviste, e loro l'hanno ammesse, quando è scoppiato il caso appunto della revisione, della medicina basata sulle prove di efficacia, è successo un filimondo perché hanno messo in mezzo tutte le grandi riviste scientifiche. Questo è un settembre del 2007-2008, comunque c'è un clito qua anche, io lo sapevo perché mi è arrivata la notizia immediatamente, e si sono riuniti i direttori proprietari e hanno messo sì. Dice, noi pubblichiamo solo quello che ci dice l'industria, non andiamo a pubblicare tutti i lavori sul singolo argomento. Ma quello che mi interessa sottolineare non è questo. A un certo punto in Inghilterra hanno pensato bene, il Servizio Sanitario Nazionale Inglese, di pubblicare tutti i dati relativi, no? E tutti i dati che sono usciti fuori da questa ricerca, da questa revisione. Ah, sono pubblicata. Per spiegarlo meglio, la solita aspirina, quante pubblicazioni sono state fatte sull'aspirina? 200.000, forse sono state fatte ancora di più, ma quello no. 100.000. Di queste 100.000, quelle reperibili sono 20.000. Quelle che sono state pubblicate sulle riviste scientifiche, 10. Vogliamo andare a vedere gli altri 9.000? Le hanno riviste e hanno visto che i risultati non sono quelli che dicono loro. E questi risultati sono stati messi qui, in questa cosa, che è vero, è il vero, autentico prontuario, perché per ogni pratica medica, per ogni prodotto, per ogni intervento chirurgico, dà i risultati della scienza, quindi tutti i dati scientificamente documentati, i risultati a 10 anni, a 25 anni, e qui quindi c'è tutto. Quindi, dico io, questo dovrebbe essere nello studio di ogni medico. Allora, cosa ha fatto un emerito ministro della sanità, che andò ministro come esponente delle organizzazioni, delle società mediche. Allora, le società mediche sono completamente controllate dall'industria. Quindi dice, noi abbiamo fatto una cosa incredibile, abbiamo tradotto il clinical evidence inglese, abbiamo pubblicato in 350.000 coppie e le abbiamo mandate a tutti i medici, a tutti i farmacisti. 350.000. Un libro di questo genere sarà costato 2-3.000 lire, non so. In più la spedizione. Allora, dice, uno dice, perché a te te l'hanno mandato? A me me l'hanno mandato perché sanno che io sono uno che abitualmente è informato e ho sempre fatto parte di importanti, come dire, consigli di competenti. dopo un po', però, io ho cominciato ad andare nei vari convegni, congressi, eccetera, in questo libro. L'avete ricevuto? L'avete ricevuto? No. L'avete ricevuto? No. L'ha ricevuto lei? No. L'avete ricevuto? Ecco. Allora. Si sono mangiati quei soldi? Tutto. Allora, come è che io ce l'ho e gli altri non l'hanno ricevuto? Qualcuno. Dove non avete mandato i 350.000. Vogliamo calcolare i variati miliardi? Eh, sì. Eh, la spedizione, ecco, questi sono Cristo, questi sono, poi per le spese della traduzione vogliamo mettere. Certo. sono, sono, eh, saranno 450.000. Sono 1101.000. Oh, qui c'è tutto. Qui c'è tutto. Sulla validità di una marea di intendenti chirurgici che è stata ovviamente di costata di essere assolutamente chirurgico e non pericoloso. Esatto. Sì, sì, Allora, siccome io ho delle talpe, affio delle talpe, queste talpe le ho attivate e è uscito fuori la verità. Il dice 360.000, era 360.000 e sono state pubblicate 5.000 copie e si servivano per buttare il fumo negli occhi ai coglioni, ai fessi come me che, capito, si aspettavano il comportamento di questi. 5.000 copie. Per queste 5.000 copie si sono rubati l'equivalente di 360.000 copie. Li hanno rubati. Capito? Li è arrivati il signor ministro esponente delle società mediche. Come si chiama questo ministro? Questi non vedo. Questo ministro? Non lo sai. Che nostro? Va bene, sono tutti. Un più grande di stronzo. Non diventi ministro della sanità in Italia. Oh, assolutamente. Non è nato dall'industria farmaceutica. De Lorenzo, scusi. Ecco, bravo. Noi abbiamo fatto un video con l'Orasio dove abbiamo detto che appunto come il cretino di famiglia che era il cretino gli altri erano tutti trafficanti trafficavano eccetera il cretino di famiglia l'hanno fatto ministro se questo li possiamo far fare a lui e lui faceva il ministro di famiglia poi si era inventato pure gli è avvenuto pure un tumore un tumore di origine psicosomatica nel domenico lui l'ha preguarito l'ho visto a carri abbronzato e quando ti guarda passa agli occhi è naturale passa agli occhi perché ha fatto la figura del fesso cioè lui passa agli occhi perché nei confronti dei suoi compari camorristi lui il padre suo e i suoi fratelli ha fatto la figura del fesso lui è andato al gabio camorista vero al gabio non ci va non ci va allora io vi ho raccontato queste cose perché è interessante per riuscire a capire l'interconnessione che c'è tra la la malafede sanitaria lo sfruttamento del cittadino a fini economici con la scusa della sanità e queste cosche mafiose che di fronte dei guami un mafioso veramente a farci altri sapere intanto rischia il proprio esatto questi non rischiano nulla io ho portato questo librettino sulle cellule staminali per quale ragione mi dite hanno decretato che quella povera bambina deve morire perché non gli vogliono dare staminali ve lo ricordate lo sapete in questo caso si dove andate a Montecitorio che stanno protestando si da 23 luglio si però volco giuda ma mi dite per quale ragione l'attore è stato dimostrato che la terapia con le staminali è andata bene col fratello perché non dovete dare questa bambina qual è il veto che è partito qual è l'industria farmaceutica che a questa gente gli ha detto non dovete dare le staminali chi è che è interessato se non l'industria farmaceutica accetto se è una cura che funziona è interessato è una cura alternativa naturale la più naturale che ci sia qual è la cura più naturale che ridargli la cellula primordiale come cura esiste una omeopatia più omeopatia di quella io non so la dovresti accettare immediatamente basta essere riuscito a ottenere qualcosa non dico tutto qualcosa con questa cura tra l'altro ottenibile gratis io mi ricordo che sono anni anni che si parlava del cordone ombilicale la donazione è così ma quella avresti dovuto prendere la braccia verde avresti dovuto dire gli animali se lo mangiano il cordone ombilicale non a caso ecco e questo l'ho fatto vedere per questa ragione poi poi sì abbiamo altre tre o quattro così qui c'è una notiziole che sono stato pubblicato sul metro allora si sono accorti adesso che aumentata la mortalità infantile nelle zone dove hanno seppellito tutto il problema la porteria ma scusate ma siamo nel 2013 e di adesso questo sì ma c'è bisogno di arrivare adesso eh adesso se ne parla finalmente hanno tolto la aumento della mortalità ma è una battaglia che io ho fatto una più vicina di anni fa e adesso dovremmo andare a fare un altro video a Piana Perina vicino qui a Roma vicino a Ariano Flaminio dove per vent'anni di nascosto hanno scaricato tutti i rifiuti dell'innovazione farmaceutica Pfizer avrebbero dovuti avrebbero dovuti portarli a no in quella zona dove c'è quella grande discarica per i rifiuti tossicolocini nel nord vicino a Genova Piategrasso non mi ricordo bene dove mi viene bene il nome invece belli belli partivano da Aprilia da Fumezia e scaricavano qui a Piana Perina in una cava di truffa hanno scavato e hanno buttato poi coprivano quelli che tagliavano per prendere i rottami i rottami i blocchi i blocchi tutto il polverone il giorno dopo loro ci andavano la notte scaricavano la notte e il polverone sopra buttavano e coprivano hanno ricreato chi va in quel posto che è bellissimo è tutto un posto collinare di tuffo e vede che ci sono queste zone questo paesaggio del tutto spettrale dove ci sono tutte queste colline tutte tagliate ma è bellissimo roba da film di grande valore io mi sono interessato della questione perché fui coinvolto ti ricordi che piacque molto anche al professore Elia certo Elia il professor Elia ti ricordi anche tu quando feci quell'intervista in televisione una me l'hanno mandata ricordo che veniste a parlare e una me l'hanno mandata in onda alle 2 di notte tanto per rai 3 ci sono pernesse di mandarla alle 2 di notte non puoi dire che non l'hanno trasmesso infatti mi telefono un collega dal nord dice ma tu alle 2 di notte no dico io quello che facevo quella battaglia mi chiamarono e c'erano tutti i giornalisti e ho fatto questa intervista capito allora la rifaremo perché in questo momento in cui si parla di tutte le boccante che stanno facendo al sud che hanno fatto al sud con consenso di non signora con consenso di non signora certamente ma dico i carabinieri in quella zona no i carabinieri dove stavano i carabinieri vanno a restare il ladro di bicicletta esatto comunque questo qui è importante ma infatti i camion più camion che giravano certo e perché non giravano anche ariano noi abbiamo portato tutti i testimoni che vedevano ariano c'è niente po' di meno che la diossina di seveso perché sono uscito io durante ci sono andato avanti per un paio di anni su questa storia poi è caduto tutto completamente nel vuoto non fosse successo niente lì c'è una c'è una una bomba ecologica che prima o poi scoprirà perché ariano sta più alto rispetto a Roma i liquami che escono da quelle parti lì si stanno spargendo in tutto il territorio circostante e vanno a finire anche sul Tevere tra l'altro voi sapete che il Tevere è il il fiume più radioattivo d'Italia perché perché sul Tevere scarica l'istituto superiore di sanità quando io avevo tu avevi i colleghi all'istituto superiore di sanità sono andato a fare qualche mi hanno fatto una lezione di spettroscopia ma hanno fatto anche io spettroscopia lì concordo come si chiamava non mi ricordo ma comunque era abbastanza bravo era abbastanza bravo ciao dei pochi bravi allora quando io facevo una trasmissione a Roma città non è radio città venivano queste persone che denunciavano queste cose e venne una collega nostra dell'istituto superiore di sanità e loro un bel momento che non avevano nessuna tutela nei confronti di tutte le sostanze radioattive che loro per il loro lavoro non avevano assolutamente nessuna tutela denunciarono alla fine questa situazione e la denunciarono a un magistrato che andava per la maggiore questo magistrato di cui adesso non ricordo il nome comunque era molto noto nell'ambiente e rinviò il giudizio contro i gnoti cioè il direttore il presidente dell'istituto superiore di sanità è un ignoto che all'epoca pure il nostro collega che ora gli hanno intestato cosa come si chiama quello che gli hanno intestato tutto già basta e il ministro della sanità erano ignoti i due responsabili dell'istituto dove non era stata e continua tutt'oggi applicata la minima regola di sicurezza sul lavoro va in fogna adesso ve lo dico se fossi al potere io altro che nel lavandino saprei io cosa mettere comunque abbiamo fatto degli esempi sul comportamento di queste persone voglio sapere se la bambina che non gli hanno dato l'estaminare è morta è morta? no è morta non lo so è morta? non lo so non lo so chiedendo magari sarebbe morta uguale come si tratta ma gli identità comunque no cioè uno studente assolutamente indolativo assolutamente sei affamorale sei un delinquente sei un delinquente servo dell'industria farmaceutica se fosse stata una qualsiasi altra porcata dell'industria gliel'avrebbero data assolutamente se li seguono la pubblicazione